Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Una notizia commovente riguarda Yari Carrisi, il figlio del celebre cantante Albano. Recentemente, Yari è stato visto piangere a causa delle difficoltà di salute di suo padre. Questa notizia ha profondamente colpito Yari, il quale è estremamente legato a suo padre e condivide con lui una passione per la musica che ha sempre fatto parte della sua vita. Albano è una figura iconica della musica italiana ed europea, famoso per i suoi indimenticabili successi insieme all'ex moglie Romina Power. La famiglia Carrisi è nota per la sua unità e il legame speciale tra i suoi membri, e la notizia della malattia di Albano ha colpito profondamente tutti loro. Yari Carrisi è stato visto visibilmente commosso e addolorato dalla situazione, dimostrando tutto il suo affetto e sostegno per suo padre in questo momento difficile. Questa notizia ha messo in luce quanto sia preziosa la salute e il benessere dei nostri cari, indipendentemente dalla loro celebrità. Il pubblico resta in attesa di buone notizie sulla salute dell'amato cantante. I fan della famiglia Carrisi si sono uniti per esprimere il loro affetto e le loro preghiere per la salute di Albano. Mandiamo anche noi nei commenti tanto affetto o una preghiera per il grande Albano. Forza, ti aspettiamo!